terra prima di iniziare la visualizzazione scegliete un cristallo o una pietra che vi accompagnerà e tenetelo nella mano sinistra ci sediamo comodamente rilassati ma non abbandonati e chiudiamo gli occhi ascoltiamo i rumori esterni i movimenti di chi abbiamo vicino le auto che passano i rumori della casa la musica di sottofondo iniziamo a fare alcuni respiri profondi lentamente lasciamo andare tutti i rumori in sottofondo mentre portiamo l'attenzione al nostro corpo i piedi ben appoggiati al suolo le gambe rilassate le cosce i glutei su cui poggia il nostro peso la schiena ben allineata il collo che sostiene il capo il mento leggermente inclinato sullo sterno le braccia abbandonate le mani posate sulle cosce le mani avvertiamo il peso il calore della pietra nella nostra mano sinistra immaginiamo la sua forma il suo colore e lo immaginiamo ben nitido illuminato da un raggio di sole grazie 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 un'apertura ampia dentro la quale entriamo. È un ambiente ampio, ancora illuminato dalla luce esterna, un ambiente accogliente, asciutto, piacevolmente fresco. La pietra ci guida ancora più all'interno, ci porta verso una galleria. La luce naturale diminuisce progressivamente, ma noi vediamo bene. Non abbiamo nessuna esitazione. La nostra pietra sfolgora, ci illumina la via, ci guida, ci dà la direzione. Grazie a tutti.